Ci sono alcune importanti norme di sicurezza a cui fanno attenzione. Non è possibile fumare bordo. Vi chiediamo gentilmente di riporre i vostri oggetti personali in una zona sicura e non troppo vicina al bordo del tavolo. Consigliamo di regolare le cinture di sicurezza solamente prima del decollo. È severamente vietato lanciare oggetti dal tavolo. Nel caso in cui vi sentiste male o scopo una volta decollati, vi preghiamo di comunicarlo immediatamente a qualcuno della crew, così da potervi assistere. Vi ringraziamo per la vostra attenzione. Buongiorno 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 è già accaduto i nostri ragazzi in più di 64 paesi all'interno del mondo ma ora, voi sono le stagioni voi saranno parte di questa esperienza amici i nostri ragazzi fatteni le seatbelte siete pronti? sono state pronti? 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 andiamo a vedere vediamo se ci accompagna la tela fuori con le mani a servo tutti vai 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 grandi Superbody! Sono utomine! Ilono in cui si resta. Ilono in cui si stava, ma nella casa. C'è sucha un test? Ilono in cui si resta. La mia città è la mia città. Grazie a tutti.